Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come avete letto dal titolo, oggi facciamo un video che io non ho mai fatto prima, quindi è il primo video sui miei autoregali di compleanno che ho mai fatto sul mio canale. Questo ha un motivo abbastanza preciso, nel senso che io considererò questo video come se fosse un video haul, perché di fatto è così, tutti i video haul che io faccio, che io ho fatto, sono di acquisti che ho fatto con i miei soldi e per me stessa. Quindi in generale, normalmente i video haul è come se fossero dei video sugli autoregali. Diciamo che questo è un video particolare, cioè lo intitolerò i miei autoregali di compleanno perché ho fatto questi acquisti in vista del mio compleanno, per festeggiare il mio compleanno. Io in generale non sono una persona che ha mai ricevuto tanti regali e non sono mai stata una che ama vantarsi delle cose che ha ricevuto. Non l'ho mai fatto con gli amici nella vita vera e non l'ho mai fatto su YouTube. Infatti solitamente non guardo neanche, perché non mi tazzano particolarmente, i video sui regali di compleanno, i regali di Natale, i regali di Santa Lucia, i regali di qualsiasi altra cosa, per le ricorrenze. Ecco, non mi piacciono, quel genere di video non mi piace perché li trovo spesso semplicemente uno sfoggio di cose, senza una particolare attenzione, senza un particolare attaccamento alle persone e ai motivi per i quali quei regali sono stati fatti. Quindi in generale non sono video che mi piacciono molto. Questo esula dai video sui regali perché di fatto è un video di autoregali, quindi cose che ho comprato per me stessa, e quindi lo considero la stregua di un video haul. Quindi questo è per quanto riguarda il mio pensiero su questo video. Semplicemente volevo dirvi che se non mi piace questo genere di video, quindi se non mi piacciono i video haul, se non mi piacciono i video sugli autoregali, sui regali in generale, vi esorto a chiudere questo video, a guardare qualcos'altro, e a non lasciarmi dei commenti incattiviti o infastiditi perché ho fatto questo genere di video. Io so che questo è un tipo di video che non piace a tutti, è un tipo di video che suscita anche un po' di invidia o comunque un po' di fastidio a volte in chi lo guarda senza essere particolarmente interessato al contenuto. Quindi vi esorto al posto di lasciare questi commenti che sono, lasciano un po' il tempo che trovano, vi esorto a guardare altro, visto che ho fatto tantissimi video diversi da questo, ci sono tanti video sul mio canale, ma ci sono miliardi di video su questa piazzaforma che potrete guardare con più interesse, con più piacere, quindi vi esorto appunto a chiudere e guardare altro. Me ne è fatta questa introduzione anche troppo lunga, mi sono dilugata un po' troppo, e vi voglio mostrare quello che ho comprato. Allora, parto dalle cose che ho comprato più, con, diciamo, con degli sconti un po' più importanti in occasione di alcune giornate con delle scontistiche appunto vantaggiose, e sto parlando di, e anche cose che ho già provato, già testato, e sto parlando di il Tantour di Huda Beauty, nel colore Fair, che è questo bronzer crema da contouring, e appunto in crema, che ha questo colore ibrido tra un bronzer e un prodotto per lo scalping, adesso ve lo faccio vedere swatchato, questo è il colore, è quello che indosso anche oggi, lo indosso con sopra la polvere per il contouring però, è tutto stato fissato poi con una polvere, questo è il prodotto, come vedete è stato utilizzato più di una volta, io lo utilizzo con la spugnetta, aiuto mi sta cadendo un dito, fantastico, io lo utilizzo con la spugnetta, quindi non lo uso mai col pennello, ho provato una volta, ma lo trovo difficilmente gestibile con il pennello, lo trovo più facilmente sfumabile e gestibile con la spugnetta, quindi io vi consiglio l'applicazione con la spugna, anche se nessuno vi vieta di applicarlo con il pennello, lo trovo un prodotto veramente valido, mi piace tantissimo, mi piace l'effetto di ombra naturale che dà al viso, mi piace che sia stratificabile, che non sia eccessivamente pigmentato, ma che sia comunque visibile, mi piace la sfumabilità, mi piace anche la texture, la consistenza, ed è sicuramente un prodotto che non mi sono affatto pentita di aver acquistato, e anzi sono stata contenta di averlo preso con una scontistica, che comunque era abbastanza buona, perché l'ho preso nell'occasione del Singles Day, quindi con il 15% di sconto, che valeva su tutti i marchi, quindi l'ho approfittato per prendere qualcosa che di solito non va in sconto, cioè Uda, e questa, cioè la palette di Natasha Denona, la mia primissima palettina di Natasha Denona, cioè la minibondia. Allora, adesso vi faccio vedere la palette di Natasha Denona, non l'ho ancora buttato via la scatola, se mi seguite su Instagram avrete sicuramente visto un bel occhio, avrete sicuramente visto le storie in cui vi dicevo che avevo l'angoscia, che mi arrivasse la palette rotta, perché l'ho ordinata sul sito, e quando mi è arrivata avevo paura, ma veramente tanta, che fosse tutta rotta, perché so che i suoi ombretti, cioè gli ombretti di Natasha Denona, sono un po' delicati, e quindi sapendo come Sephora non imballa i pacchi, cioè praticamente c'è semplicemente una bustina ficcata dentro una scatola di carta, avevo paura che fosse rotta. In realtà mi è arrivata perfetta. Questa è la palette, è bellissima. Il packaging è un po' così, nel senso che per essere una palette, per essere comunque un brand costoso, non è niente di che questo packaging, però devo dire che le polveri sono fantastiche, bellissime, l'ho già usata con tanto piacere, ho fatto dei look veramente belli, e non perché mi voglio autocelebrare, ma perché mi hanno chiesto, in almeno tre persone, quando mi sono truccata con questa palette, mi hanno chiesto ma cos'è sugli occhi, ma che bel look, che bel trucco, quindi insomma sono ombretti che si fanno notare. Vi faccio giusto qualche swatch, per farvi vedere gli ombretti. Purtroppo la qualità di queste polveri non si può capire, non si può evincere bene dai video, perché ovviamente non potete toccarli, quindi non potendo ritoccare, non riuscirete a capire la texture, e il tipo di polvere, però potete almeno vedere i punti colore. Questo verde è bellissimo, perché è un verde, è un duo chrome, verde marrone, non so bene come descriverlo, il verde, diciamo verde pisello, è molto bello, molto sfumabile, l'oro è bellissimo, questo marrone scuro è bellissimo, per fare le sfumature esterne, anche se non è matte, non fa per niente fallout, mi piace tantissimo la qualità, sono felicissima di avere questa palette, felicissima, anche perché proprio rispecchia tantissimo il mio tipo di gusto nel truccarmi, il verde è uno dei miei colori preferiti, in assoluto, anche non nel trucco, e sono contenta di aver deciso di acquistare questa palette, anche in occasione di uno sconto, perché appunto anche questa l'ho presa il giorno del Singles Day, quindi comunque l'ho parata un po' meno, quindi è ancora più contenta di averla, poi, poi poi poi, vi faccio vedere, vi faccio vedere il mini kit di Nars, che ho acquistato, con il 20% di sconto da Sephora, l'ultimo, proprio l'ultimo 20% che è stato messo, e sto parlando del kit Dolce Vita, questi sono kit, diciamo, natalizi, al cui interno si trova un blush, nella versione appunto piccola, questo è il blush Dolce Vita, che è anche quello che ho addosso oggi, e poi si trova questo mini balsamo labbra, si chiama After Glow Lip Balm, nel colore Dolce Vita, questo non l'ho ancora usato, neanche sbocciato, infatti adesso ve lo faccio vedere, è un lip balm, quindi è un tipo di prodotto che deve piacere, vedete, è veramente poco pigmentato, ma devo dire che a me questo genere di prodotto piace, perché avendo le labbra spesso secche, con pellicine, con tagli, eccetera, mi piacciono molto i prodotti idratanti per le labbra, quindi penso che lo userò, e in più, essendo piccolo, è anche più facile da portare in giro, non è per niente pesante, il blush è bellissimo, adesso vi faccio vedere il colore, ma è anche quello che indosso oggi, quindi penso che si vedrà comunque bene dalla mia faccia, è molto bello, ha perfino lo specchiettino, cioè è bellissimo, sembra proprio un blush in miniatura, dette ha il prodotto, e poi lo specchio, bellissimo come kit da viaggio, molto molto carino, e tra l'altro non avevo mai avuto un blush di Nars, quindi proprio sono contentissima, perché ho avuto, io ho tra l'altro, non è che ho avuto, ho tuttora la Luna di Nars, che mi sembra sia uno degli unici prodotti che ho, no, ho anche un rossetto, ho anche un rossetto, ma siccome è un colore particolare, lo uso poco, peccato perché è un rossetto molto bello, però appunto è un viola, un viola intenso, viola orchid, mi sembra che si chiami Fanny, ma comunque è di quella, della linea famosissima di Nars, che adesso non mi sfugge come si chiama, però comunque di quei rossetti famosi, che sono, sono spesso sold out, perché appunto sono molto molto famosi, e niente, quindi sono contenta di aver comprato questo kit, per provare un balsamo labbra, e un prodotto per il viso, quindi un farda di Nars, e anche questo l'ho preso con uno sconto, poi andiamo avanti, vi faccio vedere una delle cose che invece ho preso senza scontistiche, proprio mi sa l'unica cosa che ho preso senza lo sconto, e sto parlando della palette di Cleo Makeup Shop, della Beauty Love, è la palette con cui ho realizzato questo video, e tranquille perché ho girato un Get Ready With Me, quindi vedrete tutto, se riuscirò a montarlo decentemente, parentesi, ma speriamo di sì, vi faccio vedere il packaging, è fatto così, quindi ha il cartoncino color corallo, con la chiave e il nome, si sfila, dietro ci sono le informazioni, quindi gli inci, e una piccola dedica, che è la solita dedica, che Cleo mette su tutti i suoi prodotti, il packaging interno è questo, quindi con il nome della palette, molto bello il design, lo trovo molto più curato, e meno, come posso dire, un po' meno bambinesco, rispetto agli altri prodotti, non che i prodotti suoi, siano particolarmente bambineschi, però, li ho trovati un po' meno curati, forse, nel packaging, un po' più semplici, un po' più, classici, questo è un packaging, scusate, questo è il retro, è un packaging sicuramente più curato, nell'aspetto, nel tipo di materiale, anche a toccarlo, è molto bello, il cartone è piuttosto rigido, veramente bella, è una palette bellissima, c'è anche il nome qui, sulla parte sopra, veramente bella, ve la faccio vedere dentro, ma non mi dilungo particolarmente, a farvi vedere i colori, perché vi ho parlato di questa palette, nello specifico, nel Get Ready With Me, quindi adesso vi faccio vedere l'interno, questo è l'interno, particolare è la scelta dei nomi, degli ombretti, perché ogni ombretto ha il nome di un aggettivo, cioè ogni ombretto si chiama come un aggettivo, e tutti questi aggettivi si riferiscono all'ideale di bellezza di Clio, quindi sono tutti aggettivi che riguardano prevalentemente il carattere, non c'è nessun ombretto che abbia come nome un aggettivo riguardante la fisicità, ma sono tutti appunto aggettivi che si riferiscono alla personalità, quindi genuine, caring, kind, passionate, radiant, graceful, imperfect, mi piacciono tantissimo, mi piace tantissimo proprio come nome, mi piacciono creative, lo trovo un bellissimo aggettivo per quanto riguarda la bellezza di una persona, una persona creativa è una persona anche bella, dreamer, bellissimo aggettivo, independent, brave, quindi indipendente, coraggioso, free, bellissimo, e strong, sono i miei preferiti, cioè sono gli aggettivi che designano per me il mio ideale di bellezza per quanto riguarda la personalità, veramente una bellissima palette, sono rimasta subito colpita dalla qualità e dalla scelta dei colori, è veramente una bella palette, un bell'oggetto di make-up. Insieme con la palette ho deciso di acquistare anche uno degli ultimi cream love usciti, ma non ho preso Kiki perché era troppo chiaro secondo me, per le mie labbra, perché io ho le labbra piuttosto pigmentate, ho preso invece, non potevo farmelo scappare, Spice Rouge, io sono un amante dei rossi caldi, o comunque dei colori caldi, pescati, ma anche un po' più speziati, quindi un po' più bruciati sulle labbra, mi piacciono molto, è un bellissimo rossetto secondo me, l'ho già portato, il punto colore è molto particolare, e la qualità è la classica qualità dei cream love, quindi sono molto molto contenta di averlo, perché è veramente un valido prodotto. Poi andiamo avanti con quello che ho comprato da Douglas, con il codice, no codice, con lo sconto del Black Friday. Se con 69 euro di soglia di spesa, si ha diritto al 25% di sconto. E io ho preso due kit, giusto per non farmi mancare niente. Uno è un kit di Smashbox, io non ho mai provato niente di Smashbox, per quanto riguarda la base, quindi nei primer, nei fondotinta, nei correttori, ed ero curiosissima, e quindi ho deciso di prendere questo kit, che trovo particolarmente bello, perché all'interno ci sono il Photo Finish Primerizer, famosissimo primerizer, il Primer Water Set and Refresh, e l'Original Photo Finish Smooth and Blur. Adesso ve lo faccio vedere dentro, però comunque anche da fuori si vede bene, si vedono bene i prodotti. Nell'edizione limitata natalizia, quindi con il packaging natalizio. Eccolo qua. Non li apro perché in questo momento ho deciso di non aprirli. Li aprirò più avanti, li proverò più avanti, per ora mi limito a tenerlo lì. E' un bellissimo kit per chi vuole provare le... Stavo leggendo se ci sono full size o no, sono tutte travel size. Comunque è un bellissima occasione per chi vuole provare i prodotti di Smashbox per la base, e siccome appunto io non avevo mai provato niente, ho deciso di prendere il kit, sono molto contenta, non vedo l'ora di provarli. Posso usarli anche per lavoro, comunque in accademia, perché appunto per chi non lo sapesse io frequento un'accademia per diventare MUA, quindi nel caso in cui su di me non avessero effetti particolari o non mi piacessero particolarmente per il mio tipo di pelle, sono comunque prodotti che si possono utilizzare tranquillamente anche per lavoro, cioè che potrò utilizzare tranquillamente per lavoro, quindi comunque sono prodotti utili anche da quel punto di vista. E poi ho preso una cosa che mi ha colpito subito, l'ho vista sullo scaffale ed è stata mia. E sto parlando di questo set natalizio di Estée Lauder. Estée Lauder quest'anno ha fatto dei cofaretti veramente belli. Uno è questo, questo viola, e poi ce n'era uno rosso con tutti i cuoricini in rilievo, qua c'è in rilievo, ci sono tutti questi simboli delle carte, quindi le picche, i quadri, i fiori, i cuori, mentre l'altro è solo con i cuori ed è tutto rosso. Quello ha all'interno tre prodotti labbra, una matita, un gloss, se non ho capito male, e un rossetto, tutto rosso, quindi tutto il tema colore è rosso, mentre questo, il tema colore ovviamente è il viola, e all'interno è fatto così. adesso ve lo faccio vedere. Spero che si veda bene. Allora, ci sono due full size, ovvero credo che siano il mascara e la matita, però non sono sicura, e poi c'è un trio, una specie di, sì, un trio di ombretti, oppure, non so se anche questo sia un ombretto, mi sembra di sì, però se non dovesse essere un ombretto, potrebbe essere un illuminante. Comunque, mi ha colpito tantissimo, perché appunto ci sono due full size all'interno. La matita viola, io non ho matite colorate, cioè ne ho veramente forse una o due al massimo, ma il viola comunque è un colore che io uso molto volentieri, perché essendo, avendo gli occhi comunque tendenti al verde, mi piace molto indossare il viola. Adesso, il mascara, adesso non so se riesco a tirar fuori tutto, non credo, vorrei evitare di fare un macello, infatti non ci riesco, quindi non ve lo tiro fuori, però comunque c'è il mascara, che io non ho mai provato di Estée Lauder, la matita e gli ombretti. Io di Estée Lauder ho soltato dei rossetti, che sono fantastici, sono i Pure Color Desire, quelli nuovi, ma ne ho anche uno, degli Envy, Pure Color Envy, un rosso, molto bello, che adoro, ha una texture bellissima, e quando ho visto questo kit, non potevo lasciarlo là, quindi mi sono regalata questi due kit da Douglas, che ho comunque comprato con il 25% di sconto. Ho ancora uno scontrino di questi, quindi vi posso dire quanto costavano prima dello sconto. Allora, il kit di Smashbox costava 29,95, quindi neanche tantissimo, e il cofanito di Estée Lauder costava 42,95. Con lo sconto del 25%, quello di Smashbox abbiamo scontato 7,49 euro, mentre il kit di Estée Lauder l'hanno scontato di 10,74 euro. Quindi comunque ho avuto uno sconto non indifferente. e niente, sono molto contenta di avere questi prodotti. Con il makeup abbiamo finito, vi faccio vedere quello che ho comprato di abbigliamento. Allora, non mi avete mai visto parlare di abbigliamento, perché non sono molto a mio agio a parlare di abbigliamento su YouTube, o anche su Instagram. Raramente mi faccio foto intere nella vita normale e non ho mai postata una intera in tutta la mia vita e non sarà oggi il caso che vi faccio vedere le foto intere, però magari devo ancora decidere in realtà, ma penso che mi farò vedere, per farvi capire come sono i vestiti indossati, vi farò qualche ripresa a immagine completa, quindi a figura intera, non mi viene dal termine, vi farò qualche ripresa a figura intera per farvi vedere come sono i vestiti su di me. Però in generale volevo farvi vedere quello che ho comprato. Allora, da OBS ho comprato delle cose. Spero che la luce non cambi. La prima cosa che ho comprato, cioè in realtà le ho comprate tutte insieme, ma la prima cosa che ho visto e ho deciso di comprare, perché mi piace tantissimo, è questo vestito. Questo vestito blu notte, vi faccio vedere il colore, blu notte con questi disegni in color beige, color crema, è fatto così, non si capisce niente da là, infatti non si vedrà bene il taglio, però è un vestito molto bello. Se mi seguite su Instagram specialmente, saprete che sono un'appassionata di vestiti, proprio vestiti, vestiti, non vestiti in generale, vestiti, vestiti. Se posso mi metto sempre e solo vestiti, le donne, raramente porto i pantaloni perché ne ho voglia, diciamo che li porto semplicemente perché fa freddo, oppure piove, oppure sono via tutto il giorno e non sono sicura se farà freddo, farà caldo, se sarò, se dovrò camminare tanto, se non dovrò camminare per niente, quindi per essere sicura porto i jeans e i pantaloni, però se io potessi mettere i vestiti tutti i giorni, per tutte le occasioni e questo mi piace davvero tanto. Ha un taglio tipo stile impero, però un po' sbucca, un po' una specie di di sbuffo sul davanti, vedete che ha un po' ha un po' di pieghe qua, non perché non sia stirato, ma perché appunto ha una specie di rigonfiamento sulla parte davanti, poi scende piuttosto aderente e arriva più o meno al ginocchio, non sotto, più o meno al ginocchio. Vi lascerò comunque delle clip dei vestiti indossati perché mi rendo conto che non si capisce niente vedendoli dall'appendino. Comunque, questo è il primo vestito che ho preso, ve lo metto qua perché altrimenti mi cade tutto. Poi, scusate i cambii di luce, ho preso un altro vestito e questo l'avete già visto indossato su Instagram, se siete attenti lo riconoscerete, che è questo, questo vestito in questo colore, questa trama quadrettata, quindi a quadri, azzurra e arancione. Ci tengo a dire che io l'ho già lavato tutti questi vestiti, quindi li ho già indossati, questo sì, l'altro no, però tutte cose pulite che ho preso dall'armadio e non mi ricordo assolutamente quanto li ho pagati, proprio obbliato, completamente quello che ho pagato quel giorno, però ci tengo a dire che sono tutti sono tutti vestiti 100% cotone o al massimo 95% cotone e 5% elastane perché non amo la sensazione dei vestiti sintetici sulla pelle, quindi giusto per darvi qualche indicazione. Questo ha un taglio più aderente, non è morbido come l'altro, è molto più aderente al corpo ed è fatto così, ha la manica un po' a sbuffo con il polsino elastico ed è molto molto carino, molto bello. Mi piace tantissimo il colore perché è molto particolare, io non ho tante cose con le fantasie, preferisco di più gli abiti a tinta unita, però mi piace tantissimo perché è una cosa che non ho mai avuto così quadrettato con questi colori particolari e sono veramente contentissima di averlo. Poi ho comprato un paio di pantaloni, ho comprato un paio di pantaloni perché io non ho tanti pantaloni, ho prevalentemente jeans e quando mi devo vestire elegante e devo mettere un pantalone sono sempre in difficoltà, ragione per cui ho deciso di comprare questo pantalone e adesso vi faccio vedere ma non credo che si vedrà molto bene. Questi li ho stirati quindi devo stare attentissima a non spiegarli. Questa è la trama, no ve li devo far vedere indossati perché così non rendono per niente. Hanno anche la cintura, comunque è un pantalone a vita alta a palazzo che scende dritto quindi adesso ve lo farò vedere indossato, comunque la trama è questa. Questo è un acrilico credo, no non mi ricordo più, comunque c'è del cotone ma c'è anche del acrilico o lana addirittura, non mi ricordo, magari vi lascio in sovraimpressione qua scritto qual è il materiale. e niente, vi farò vedere i pantaloni indossati perché mi rendo conto che così veramente non si vede niente. Non scandalizzatevi per la taglia perché io porto una 48 porto una 48 di fianchi e una quarta coppa di seno quindi sono abbondante. Comunque per quanto riguarda le taglie i vestiti sono entrambi delle XL perché questo veste piuttosto aderente quindi mi andava bene anche la L però se avessi preso la L sarebbe stato un po' troppo corto perché questo vestito arriva circa sopra il ginocchio quindi se fosse stato una taglia in meno una L sarebbe arrivato a metà coscia e non mi sento molto a mio agio con gli abiti così corti quindi ho preso una XL così è un po' più morbido e mi arriva un po' leggermente sopra il ginocchio ma non troppo mentre anche questo blu è una XL si esatto è una XL e questo arriva tranquillamente sotto il ginocchio ed è molto molto morbido mi piace tantissimo comunque vi farò vedere tutte le cose indossate perché così non non rindono assolutamente l'ultima cosa che ho acquistato da OVS per quanto riguarda il vestiario è questa giacca esatto questa giacca modello maschile diciamo con il bottone interno e la cintura vi dovrò far vedere tutto indossato perché così veramente non si capisce niente questa è la giacca mi piace tantissimo la fantasia molto bella molto morbida anche qua non mi ricordo il il materiale ma vi lascerò magari una scritta qua in sopraimpressione la taglia è una 46 ha la spalla leggermente imbottita ma non troppo non modello anni 90 che avevano queste spallone grosse così no non mi piacciono però è leggermente imbottita sì che sta bella dritta questa l'ho già lavata e sistemata quindi è pronto questo è il primo vestito che vi faccio vedere è quello quadrettato piuttosto aderente come vi ho spiegato ha un taglio un po' particolare perché ha il taglio sotto il seno con una specie di stile impero però poi sta piuttosto aderente sul corpo non è niente di troppo insacchettato nel senso che come vedete è piuttosto morbido anche se comunque mantiene un taglio piuttosto aderente al corpo secondo me è molto adatto per chi ha la forma crescidra perché valorizza molto questo tipo di corpo avendo questo taglio sotto il seno che è anche un po' storto scusate così va meglio se avendo questo taglio sotto il seno enfatizza la vita sottile la vita stritta è solo un retro fatto così quindi ha questa specie di lavorazione un po' morbida anche sul retro della schiena non fa il sacco comunque qua perché qua io ho sempre il problema che mi fanno la tasca invece questo non è una tasca è semplicemente il taglio del vestito il taglio dell'abito le maniche sono fatte così la spalla è aderente finisce con lo sbuffo e l'elastico è molto carino secondo me può essere adattato a tanti tipi diversi di occasione pur avendo la pancetta non me la segna nel senso che non è così aderente da segnare la pancia però ovviamente se avete tanta pancia o la pancia gonfia vi sconsiglio di portarlo io per esempio non lo porto alle cene perché ho paura che mi si gonfi la pancia dopo aver mangiato e dopo che si veda insomma la lunghezza è una lunghezza classica adesso non riesco a farvela vedere perché purtroppo ho la fotocamera fissa quindi non posso farvela vedere però è una lunghezza leggermente sopra il ginocchio ma veramente di poco quindi è una lunghezza piuttosto classica con cui potete andare un po' da tutte le parti insomma non è vincolante ad un tipo di contesto è molto carino può essere più formale o meno formale a seconda di come lo accessoriate mi piace molto anche il collo che non è troppo scollato non è troppo accollato è un giro collo classico mi piace tantissimo perché appunto non è eccessivamente scollato e mi piace molto ecco il secondo vestito questo è sicuramente più attillato più aderente però è anche molto più romantico secondo me con questo blu notte di sfondo e tutti i fiori quindi tutta la fantasia color beige è molto bello ha una manica aderente a tre quarti lo scollo è comunque rotondo e non troppo profondo il che mi mette molto mio agio perché in realtà l'abito sarebbe piuttosto aderente sulla davanti ha questa specie di arricciatura che si restringe sulla parte della vita sul retto è fatto così segue molto bene la forma del corpo non è per niente non fa la tasca come vedete non fa nessuna tasca è molto carino la lunghezza è anche qua leggermente sopra il ginocchio ma diciamo che non è per niente volgare è molto classica ed elegante come tipologia di lunghezza questi sono i pantaloni mi dovrò allontanare un po' quindi probabilmente mi sentirete male allora questo è il pantalone come vedete è piuttosto largo perché è tutto dritto c'è un pantalone a palazzo dritto io mi rendo conto che forse su di me non è che stiamo ancora benissimo però mi piacevano molto quindi ho deciso di prenderli sono piuttosto comodi e l'unica cosa che non mi piace è la cintura perché come vedete dietro non sta perfettamente dritta è molto si attorciglia molto quindi io cosa faccio li porto senza la cintura adesso la tolgo e vi faccio vedere com'è senza senza secondo me è molto più bello come pantalone è molto più classico elegante nulla vi vieta di mettere un'altra cintura probabilmente io metterò una cintura diversa o nera o blu perché appunto secondo me stanno molto bene con la cintura e sono molto belli molto comodi sotto io ho tenuto le calze perché ho appena finito di provare i vestiti quindi ho tenuto le calze sotto e sono anche piuttosto comodi allora la parte sotto è completamente dritta quindi scende molto dritto sulla gamba e tendono un po' a slanciare ecco che come me non è proprio proprio magra e secondo me sono molto belli anche qui tendono un po' a stringere sulla pancia ve lo dico però devo anche tenere conto che sono li ho appena lavati quindi sono puliti e magari con l'indosso tendono un po' a cedere comunque sono molto belli dentro sono stati così e niente ecco qua i pantaloni indossati ecco la giacca indossata allora la giacca è un modello uomo quindi non è sfiancata ma avendo la cintura la potete stringere a vostro piacimento come ve la sentite più comoda sotto ha un un bottone automatico quindi che vi aiuta a sfiancarla leggermente il retro è fatto in questo modo quindi è piuttosto dritto e ha uno spacco sotto per permettervi di alzarvi muovere insomma senza stropicciare la giacca è molto molto comoda e morbida la fantasia secondo me è molto bella e particolare senza essere esagerata senza essere strana o quant'altro non è difficilissima da abbinare nel senso che io non ho tanti colori nel mio armadio la porto o con la maglietta nera come mi vedete adesso sotto oppure la porto anche con una maglietta color crema o una maglietta avorio o comunque qualcosa tinta unita semplice sotto ho messo un jeans scuro ma potete portarla benissimo anche con i pantaloni proprio quelli da completo potete portarla con una gonna è proprio molto bella e classica è piuttosto lunghetta cioè arriva sotto il sedere quindi copre bene non è per niente cioè non è corta e vi copre abbastanza e mi piace tantissimo anche il taglio che ha sul davanti con così queste con le alette così proprio come se fosse una giacca da uomo e mi piace veramente tanto la spalla è leggermente proprio poco poco imbottita e la manica è dritta è piuttosto lunga ma quando appunto piego il braccio mi sta normale quindi non è poi così lunga mi piace veramente tanto è molto comoda e calda l'unica parte che non mi fa impazzire è la schiena qui perché tende a fare poco poco la tasca cioè vedete lascia un po' di tessuto in eccesso che anche sistemandola non riesco bene a sistemare ecco anche tirandola un po' giù tirando sulla cintura non riesco a sistemarla molto però insomma è un piccolo difetto un minimo difetto e siccome questa giacca non costa tantissimo l'ho comunque comprata da OBS insomma non importa ecco proprio un difetto secondo me minimo che si può su cui io posso tranquillamente sovrasteguire poi vi faccio vedere le scarpe che ho comprato come auto regali di compleanno le ho comprate due paia un paio l'ho preso da quello giusto che se siete di Padova o dintorni sicuramente conoscerete questo negozio perché è un grandissimo negozio di scarpe c'è un po' di abbigliamento valigie e borse sostanzialmente vendono questo ma ci sono anche degli altri accessori come degli orologi i portafogli insomma c'è un po' di tutto però comunque nella sezione scarpe e accessori c'è veramente poco di abbigliamento e vendono di tutto cioè per tutte le persone quindi da uomini donne bambini anche le ciabatte vendono quindi c'è un po' di tutto dalla marca super costosa alle scarpe da 20 euro quindi da non so da Michael Kors fino a le scarpe appunto da 20 euro c'è di tutto quindi c'è tantissima scelta quando sono stata lì io subito sono stata attirata dal reparto delle scarpe col tacco perché non credo di averlo mai detto qua sui social quindi sul mio canale e sulla mia pagina instagram ma io sono una patita sfegatata dei tacchi a spillo le ho sempre portati da quando avevo 5 anni rubavo le scarpe col tacco a spillo di mia madre per andare in giro per casa con i tacchi a spillo e quando andavo a scuola ovviamente non li portavo non portavo i tacchi a spillo ma quando ho finito le superiori la prima cosa che ho fatto praticamente dopo aver preso il diploma nei mesi successivi è stato comprare 3 o 4 paia di scarpe col tacco alto quindi si parla di 10 12 centimetri e tuttora li porto spesso molto spesso anche perché essendo un amante dei vestiti a parte che i tacchi si possono portare con tutto anche con i pantaloni anche con i jeans ma essendo un amante dei vestiti quindi essendo un amante dell'abbigliamento più classicamente ritenuto femminile diciamo così mi piace tantissimo abbinare i vestiti con le scarpe col tacco alto però essendo una persona con dei problemi alla schiena e comunque avendo delle giornate piuttosto intense soprattutto ultimamente ho avuto delle giornate veramente lunghe non posso sempre permettermi di portare i tacchi a spillo perché se sono in giro per 13 ore ragazzi sfido chiunque a stare 13 ore con un tacco 12 perché dopo un po' veramente non ce la fai più anche perché se devo stare in piedi molto come quando vado in accademia non ce la faccio a portare i tacchi perché devo stare in piedi per tante ore perché truccando devi stare in piedi quindi mi serviva assolutamente un paio di scarpe comode per per tutti i giorni o comunque anche per delle anche per delle serate perché alla fine la scarpa che ho preso è piuttosto elegante pur essendo non so se si chiama sneaker oppure se si chiami scarpa da ginnastica insomma adesso ve le faccio vedere così tagliamo la testa al tolo queste sono le scarpe che ho comprato ne faccio vedere una ma ovviamente c'ho anche l'altra neanche da dire non è che mi compro una scarpa sola vabbè lasciamo perdere allora queste sono le scarpe sono di un color non lo definiscono antracite secondo me non è proprio un color antracite nel senso che è un color marrone marrone dorato sono di pelle con i lacci hanno questi bellissimi inserti con delle tipo paillettes strass non so bene come come definirlo non sono non sono paillettes sono proprio applicazioni che rendono la scarpa un po' più un po' più elegante mi piace tantissimo il fatto che siano di pelle sono molto comode questo è un 38 io di solito porto il 37 e mezzo per le scarpe basse quindi le ballerine le moccassine quelle cose là porto un 37 e mezzo 38 scarpe della ginnastica porto sempre un 38 o addirittura un 38 e mezzo se si tratta per esempio di nike porto un 38 e mezzo questo è un 38 se invece sono scarpe col tacco alto 37 37 e mezzo vabbè a parte questo è che ho il piede che si adatta molto al tipo di scarpa sono della Nero Giardini infatti qua c'è l'applicazione con la NG della Nero Giardini e sono bellissime oltre che super comode quindi sono veramente molto contenta di aver preso questo questo paio di scarpe molto molto eleganti ma allo stesso tempo comode quindi vanno bene per essere indossate sia per tutti i giorni sia anche per una serata magari perché sono molto carine mi piace tanto l'applicazione sul retro che ha questo questo tallone di pelle martellata molto bello molto anche carino il fatto che abbia la non so come si chiami questa parte della scarpa però ha questa parte bianca che fa contrasto con il colore piuttosto scuro della scarpa mi piace tantissimo e trovo molto ben abbinabili sia al nero sia al blu sia al marrone proprio sono abbastanza universali perché hanno questo colore leggermente metallizzato sull'oro che non è proprio metallizzato ma è come se fosse riflessato come se fosse un bronzo brunito con dei riflessi dorati che secondo me è veramente molto bello non le ho indossate ancora perché sto aspettando il momento giusto per indossarle però appunto presto le indosserò e non vedo l'ora perché sono veramente belle poi volevo farvi vedere un altro paio di scarpe che invece ho preso online io non compro mai le scarpe online ma quando ho visto che erano super scontate siccome era da tanto tempo che ci facevo il fio ho detto va bene le compro beh le considererò un altro regalo di compleanno un altro regalo di compleanno le ho prese sul sito scusate un capello in bocca le ho prese sul sito di Bonprim vi lascio in sovraimpressione il nome del sito che è un sito che rivende sostanzialmente abbigliamento prevalentemente e anche scarpe e accessori da un po' di tempo a questa parte io ho comprato spesso lì dell'abbigliamento infatti se volete se vi interessa in qualche modo potrei anche farci un video perché ho tante cose loro veramente tanti capi e mi sono sempre trovata piuttosto bene e ho deciso di comprare questa volta anche un paio di scarpe che sono queste sono questi mocassini ballerine bassi con questo fiocco sono in come in raso in tessuto color bordeaux borgogna bellissime con la punta so che vanno molto di moda adesso va molto di moda questo genere di linea per le scarpe la marca è Body Flirt e sono un 38 ho preso un 38 perché leggendo nei commenti perché ovviamente ogni articolo è commentato e votato e io sono un'assidua un'assidua utente che commenta sempre i capi che acquista perché secondo me è molto importante per chi acquista poter leggere le esperienze degli altri per farsi un'idea della taglia della vestibilità è molto molto comodo e quindi leggendo i commenti tante persone dicevano che vestivano poco erano leggermente strette e quindi alcune persone consigliavano di prendere una taglia in più e quindi ho deciso di prendere un 38 mi sono piaciute subito le ho provate e sono molto comode mi piace perché pur avendo la punta hanno la pianta piuttosto larga cosa importante per me perché io ho la pianta piuttosto larga quindi non vanno bene le scarpe con la punta di solito non mi vanno bene le scarpe con la punta perché tendono ad avere questa parte molto stretta invece questi sono dei mocassini molto molto comodi a parte che il tessuto come vedete è piuttosto cioè la scarpa è morbidissima quindi in realtà anche se fossero un po' strette basterebbe portarle dal calzolario a farle mettere in forma per un po' e si allargherebbero però in generale è una scarpa molto bella e sono molto contenta di averla presa in questo numero quindi così che possa essere comoda e anche queste non le ho mai usate non vedo l'ora di utilizzarle non le ho mai usate perché ultimamente ha piovuto in continuazione veramente tutti i giorni pioveva ed essendo di tessuto avevo paura che si rovinassero quindi sembrano tipo scamosciate ma non credo che siano scamosciate comunque vabbè mi piace tantissimo ultimamente ho scoperto un amore per i mocassini infatti ne ho comprati un paio grigi ma ancora qualche mese fa e poi ho comprato questi come autoregalo di compleanno perché non sono proprio delle ballerine sembrano proprio dei mocassini modello maschile ma con il fiocco che secondo me sono veramente belli in questo colore super super femminile super autunnale bene io ho concluso spero che questo video vi sia piaciuto spero di essere riuscita a sistemare le clip dei vestiti indossati se non fosse così ve li lascio a fondo video perché non so se sono capace con movie maker di sistemare bene il video comunque spero appunto che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato in qualche modo di compagnia perché è utile non penso però di compagnia magari sì noi ci vediamo alla prossima vi farò sapere tutto per quanto riguarda i prodotti che ho comprato come autoregali e anche delle scarpe vi farò sapere se vi piacciono se sono comode se le uso spesso eccetera e nulla io vi faccio un grande saluto vi mando un grande bacio e noi ci vediamo alla prossima se vi va ciao ciao